buongiorno a tutti sono Luigi Navacu se preferite benvenuti a questo nuovo video secondo tentativo posso dire senza vergogna né altro nel cellulare gon 40 stamina scende giù che è una bellezza qua sopra il primo tentativo è stato alquanto inquietantemente inutile speriamo di migliorare altrimenti non è tanto il fatto di non riuscire ad avere il Gohan LR qua e che sarà duro fare una guida allora cambiamo un po il team a sto punto dato che era quello che mi ha dato un po di problemi amico Gogeta perché a quanto pare posso dire quello che voglio ma non serve un cavolo l'amico che ho preso prima cambiamo di conseguenza il team non più kit VLR come leader bensì il Gohan Super Saiyan poi non cambia neanche troppo il team alla fin fine sempre tre ne abbiamo allora cosa posso dire di questo Gohan difficile 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 non quanto si poteva immaginare naturalmente me lo aspettavo ancora più complesso se devo essere sincero alla fin fine come difficoltà siamo più o meno a livello di un kit bu diciamo tutto che comunque recentemente quando iniziato di guida sto rivalutando una classifica della difficoltà dei 40 stamina con brawly in fondo e al primo posto per quanto me ne concerne penso o Gohan o kit bu perché alla fin fine Gogeta si butta giù con una facilità estrema Goku Super Saiyan 3 se hai un Cell o un amico con Goku Super Saiyan God implode sto qua invece può fare problemi team che sto usando è questo non è il team consigliato il team consigliato rimane un bel doppio Gogeta punto debole di doppio Gogeta siete obbligati e sottolineo obbligati ad avere il Gotenks fisico il Bardock fisico altrimenti non ci ha fatto questo è il terreno andremo sulla sinistra sperando di prenderci più chi possibili dato che partiamo con 5 chi non disdegnerei chi ha vediamo a kit bu e super bu super bu può dire la sua non è male ma dai iniziamo ad avere kit bu che parte con 6 non mi lamento non mi lamento dai 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 Goku che parte da 6 caruccio super bu che parte da 6 un bel 3 no un bel 3 non me lo danno proviamo ho già provato il primo giro andando di hp solo che se non lanci special non vai avanti cos'è che rende questo Gohan difficile la riduzione dei danni e il 40 stamina con meno vita a pari merito con Goku Super Saiyan 3 appena un milione di vita naturalmente non potete andare qua con un team sell o robe simili non so quanti danni farebbero ma temo davvero pochi i team nuke l'unico team nuke che potete portarvi pensando a provare a vincere un doppio golden freezer leader con kit bu ma avrete bisogno di almeno due attacchi di kit bu per riuscire a fare qualcosa in caso contrario verrete abbastanza annichiliti più o meno dai almeno riesco a lanciare subito la special kit bu tre round primo round il Gohan torneo secondo round il Gohan fisico sono felice di aver visto che contro la mia previsione ha ottenuto una signora leader skill nuova davvero non mi aspettavo di essere una leader skill tale sorpreso piacevolmente felice che è quello che sto mirando in entrambi gli account a portare poi cos'altro posso dirvi terzo round Gohan int Gohan int picchia tanto picchia tanto fa stranamente fa più danni in quel pugno a gogetta che a lui che anche tech quindi consiglio di cercare di far picchiare soltanto i tech e i tech i fisici oppure i bu i pc così sono tutti bu per la prima volta non c'è nessun ride tra loro che mi ha lasciato un pochino per ammettere un nuovo ride che non hanno messo ma vabbè loro scelta mi ha rotto abbastanza vedere il super bu bu tanks come lo chiamano ridotto a un sr con oberina flash però un sr mi ha abbastanza rotto non mi piace come cosa speravo almeno un come posso dire vediamo un ride sr così vabbè comunque nell'altro account è l'unica carta gente contenuto nello scout ma dopo gli scorsi tre ci sta anche non mi lamento qua scoperta che non ricordavo per niente che kid boo potesse croccare l'avversario con la sua special la sto riscoprendo adesso sto fatto non me lo ricordavo manco morto che avesse quel potere o meglio per noi meglio per noi ora lui è croccato si bene carino lui diminuisce i danni era un inter un bu era un fisico era un bu l'ho trovato me lo sono portato a livello 79 perché l'ottante troppo mainstream apposta per noi la te perché non avevo voglia di metterci un altro oggetto e perché tanto giocando sarebbe salito comunque l'ho detto proviamolo bene o male dovrebbe essere un buon un buon tank magari saprà dirmi la sua vedremo molto in fretta vediamo un pochino la prima fase va molto a team ve lo dico il gogetto amico è preso più che altro per chiudere le prime due fasi il problema possibile in terza fase farà poco nulla ora le prime due fasi può shottar gli entrambi se non erro dovrebbe poter shottare sia la s alta anche il secondo gohan sentite cantare la mia ragazza che canta a random mentre gioca ad isaac fase 1 finita andiamo alla fase 2 fase 2 inizia essere un pochino più dura ma relativamente niente di eccezionale nemici attaccano molto più spesso naturalmente dovrete cercare di giostrarvela tutto il giro abbiamo avuto la sfiga immonda che attacca tre volte non dovrebbe essere in grado di shottarmi sottolineo il non dovrebbe sottolineo molto il non dovrebbe anche perché i bu dovrebbero iniziare già adesso a fare il loro sporco lavoro quindi per non far gaffe da contrario dovrò chiudere ho imparato a chiudere anche in questa versione ok ma vedete non fan danni ai bu esattamente come era per broli che non faceva quasi danno e altro quindi i tank ci sono bisogna avere però anche i pg che picchiano e avere i pg che picchiano non è facile dato che sono davvero davvero pochi altri team possibili se avete il kit vlr quello fisico e avete anche freezer lr può essere interessante un team full fisico con loro due ora mi becco una camera mea in faccia per fortuna la camera mea in faccia non si è sentita poi naturalmente un team full bu secondo me qualcosa lo può dire non è facile avere un team full bu dato che tutti i bu decenti sono un r è contato anche ma jubb contro ogni previsione è diventato utile ho sempre detto che quella carta mi sembrava la più utile della prima bacia gt alla fine mi hanno ascoltato sono felice di saperlo qua le busco un pochino non lo vedo infatti però ora dovremmo finire abbastanza velocemente il turno ah però mi attacca prima lui però mi attacca prima lui questo non mi piace ah ho anche scazzato negli oggetti ottimo avevo gli oggetti per la scorsa battaglia mi sono dimenticato di rimettermi le altre cure vabbè utilizzerò molto più allora gli alma e i ghost in questa battaglia non dovevo mettere le mutande dovevo andare direttamente di denne in quel caso scusatemi però in realtà ci si cura abbastanza in questa battaglia ho notato se riuscite a tenere bloccato goni il più possibile ci si riesce anche a cureggiare abbastanza non avendo però né bardak né gothens io ho presentimenti alquanto nefasti su come finirà nonostante sembra che adesso stia andando bene ripeto sembra la verità si vedrà soltanto nella terza fase però dovremmo riuscire minimamente a tankare ci vedono bene dove vanno i pg ci si giostra su quello e si mettono i tank giusti però che comunque super b riesce a parare meglio che meglio che gli altri quindi non mi dispiace molto eccoci qua terza fase inizia la fase difficile un milione di vita non ho mai visto fargli più di 100.000 danni il massimale all'incirca sui 80.000 con un gogetto ben messo questo è un signor turno ma un signor signor turno vediamo un pochino come muoverci in questo signor signor turno allora questo v andrà per ultimo questo v deve andare per ultimo così attiva 6 367 no senza comunque togliamo così non lancio la specie a colui voglio provare a vedere se riesco a far cadere quello no 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 vabbè lasciamo perdere ho premuto il tasto sbagliato mi immagino le risate di voi che state guardando sì anche la mia ragazza sta ridendo quindi e vai va bene va bene va bene ci teniamo pronti per il prossimo turno in cui almeno Super Buu lancerà la special vabbè dai ho sbagliato quindi sono i momenti in cui ti arrabbi con te stesso ma vabbè sì non fate più danni non vi aspettate aumento di danni chissà quanto eccezionale purtroppo a differenza di Brawling in cui i danni erano aumentati anche di parecchio dico una cosa alla mia ragazza su Ice ti fa vedere i segreti nella mappa quello ogni volta che lo attivi secondo me più dire quello un economico contro il boss non fa nulla eccoci qua beh dai non è andata nemmeno troppo malamente perché oddio non è andata troppo malamente dipende dipende se quella è una special su cazzi mi sembrerà strano ma vado di Ghost perché vado di Ghost? allora sto tizio qua oltre a tutte le varie cose che ha un'altra rottura se lancia la special si pompa gli attacchi successivi ora attacco un solo turno approfittiamo del fatto che attacchi un solo turno per cercare di disintegrarlo il più possibile in questo di turno dato che gli riesco a lanciare due special di cui un gogetta che se non sbaglio ho preso con special 10 apposta per far danno proviamo ad avere un attimino di fortuna prossimo turno lo riesco a tancare senza problemi perché avrò un gohan e doppio bu il fortuna è tankato lo tankerò con più agl probabilmente mentre il nostro caro amico super bu lancerà una special 30 mila danni come super bu vi consiglio quello che metto io perché nel caso lanciate un dockan come sempre quando lanciate il dockan le riduzioni nemiche non contano quindi cercate se riuscite di lanciarlo con gogetta e là con danni e là con tanti danni ma tanti 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 danni come vedete un gogetta 10 fa 80 mila danni che ce ne vogliono più di 10 special per farlo fuori e inoltre vi ricaricate anche di tanto il dockan di super bu ha fatto sui 100 mila danni nell'altro account che è esattamente il super bu che vedete qua non è più forte o più debole vediamo un attimo se riusciamo a far qualcosina 24 mila pian piano pian piano andiamo avanti se nell'altro account la battaglia è stata uno scherzo mi sono reso conto che dopo il farming di smeraldi avevo 101 reian ma quindi neanche i costaci ero usato quando non ero sicuro andavo a dire calcolate che gohan di pugni fa 31 mila danni a gogetta abbastanza grandicello come pg questo è il turno della recovery naturalmente è quasi improbabile che al prossimo turno il nostro caro aspettate un attimo asti cazzi volancio la special con w anche almeno fa danni che dv mi sa che rimane a bocca asciutta anche a sto turno dovrebbe essere lui quello che fa più danni dei dubu però vabbè miracoli non si fanno i chi di colore giusto non escono una marea di chi viola vabbè due special lo mandiamo quasi alla fine di questa barra cioè da sperare non lanci lui la special altrimenti sono cazzi altrimenti sono cazzi e quindi sta raggando un attimo scusate altrimenti non posso aspettarmi tanto da un tech che lancia colpi però almeno un po di recovery ce l'abbiamo benché come ho sempre detto la sua special non mi piaccia la sua passiva non mi piaccia però c'è poco da farci in questi casi anche quei due tre in quei cinquemila possono dire la sua non ha lanciato lui la special nessun grato si alla fine se non avete un team full fisico che non è consigliato perché venite spazzati via al primo turno salvo che non sia un full fisico davvero davvero grosso scusate c'ho la coniglia se alcuni della femmina che ha fame dopo ti diamo il pellettato piccola eccoci come voleva si dimostrare mo so cazzi ora o uso un altro ghost usher che potrebbe molto probabilmente essere la cosa migliore quasi sicuramente la cosa che farò direi però andiamo a zero ghost usher già la prima oppure mi becco un danno da gohan contro gogetta uso le mutande il problema è che se lancia la special su cazzo quindi devo far così devo usare Yama per dimezzare i danni globali ed è uno dividere gogetta da gogo super saiyan 3 purtroppo mi piange il cuore ma è così è così mettermi così utilizzare le mutande ha senso mica tanto mica tanto ha senso vedo sulle mutande vedo non mi pare abbia un senso logico se le uso perchè tanto no 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 non gli faccio danni miro a rimanere in vita a sto turno sperando che se mi lancia una special la lancio in faccia evil boo comunque voi sapete che finchè si tratta di una Gemma sono disposto a spenderla se poi diventa di più non è che mi vada tanto Mizzica meno male che ho usato Reignarma e meno male cioè 11.000 ma non riduce proprio del 50% perchè se faceva riduce 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 mi ha fatto 32.000 due pugni la volta scorsa lagga un pochino oggi no vabbè e evil boo fa il suo porco lavoro o tal fatto che gli riduce anche l'attacco quindi non è per niente male qua se fa così vuol dire che mi lancerà la special prognamento al prossimo turno eh che non me l'ha ancora lanciata nonostante tutto siamo quasi a un terzo della battaglia siamo a 20 minuti di registrazione sarà alquanto tediosa questa battaglia altro che no no non non stavo per dire a livello del 18-3 ma ah si dimenticavo fa anche questo scherzetto ogni tanto tipo Janemba vi cambia Yorb ma è simpatico lui è simpatico dannato mi trattendo è un gioco mi trattendo qua deve tirare l'attacco a super boo per il semplice motivo che almeno così chi ti può riesce a fare a togliere il resto della vita della prima barra ah riesce a fare Dokkan riesce a fare Dokkan riesce a fare Dokkan ok iniziamo il Dokkan eh a saperlo forse avrei aspettato alcuno successivo lanciarlo con quale cosa muoio comunque sempre qua per bloccare qua va molto 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 a culo un po' da capire sperando la special mi lancia la special pun semplicissimi debolissimo fa sempre meno danni che a Gogeta con la metà dei danni che fa Gogeta però però questo mi fa capire che 90% dei casi sarei bello che morto sarei stato special perchè comunque i 30.000 danni a super boo di fa la lentezza su PC nel Dokkan è assurda nel ciclo a volte non riesco a fare da quanto va veloce se non sono concentrato vabbè dai un Dokkan di Kid Buu quanto può fare buh se quello di Super Buu arrivava quasi a 100.000 la speranza è che più o meno ne faccia così anche Kid Buu vediamo un attimo ora lanciamo la nostra carissima special una gigantesca dead ball ora lanciamo la nostra carissima special e vediamo a quanti danni siamo spero che almeno sia 200.000 è andato anche oltre la mia più rosa previsione 133.000 cavallo? si cavallo sempre Isaac è andata oltre ogni mia più rosa previsione se devo essere sincero ora o mando Gogeta a farsi un bel giretto ma riesco a lanciare di sicuro la sua no col cavo riesco a lanciare la sua special a prescindere quindi tanto vale mettermelo così così e prendere spazi per la Super Buu Launch o la special? e fin qua ci siamo qua Dokkan è ancora 0 ho sempre chiesto perché non è ancora uscito l'oggetto che aumenti la barra del Dokkan in ogni gioco che c'è una barra simile esiste un oggetto che ha più o meno questa funzionalità posso pensare un oggetto speciale qua non penso di subire troppi danni anche se mi lancia la special penso di reggerla non l'ho mai subita la sua special ancora quindi sono abbastanza in dubbio mi sa che la subisco ora o mi sta laggando a random eh perdemmelo un po' ah è una camera mia normalissima però temo che qua faccia tanto di quel male fammi pensare no uso la gemma non resetto se muoio uso la gemma tanto una gemma ho detto che la posso usare se non più o meno aumenta battaglia quindi ci sta perchè uso la gemma cosa ho fatto con quei due danni assurdo dicevo perchè uso la gemma facile perchè usando la gemma mi carico a bestia il ki dei bu me lo carico a bestia e gli lancio 3 speciali in un turno ora c'è quella famosa cosa che vi ho detto all'attacco potenziato spero non potenziato a livelli indicibili qual è la mia speranza la mia sicurezza è che probabilmente sarà potenziato a livelli indicibili vediamo un pochino se con un Kid VLR riesco a bloccarlo almeno in parte spero di sì davvero che non sia di questo livello potenziato ma sembra un attimo eccessivo perchè non lanci un'altra special di seguito in quel caso c'è poco da farci comunque la sua special è una semplice KMA vabbè aspettavo un pochino vabbè che altro fa qui con anche questo è vero eh comunque deve rimanere fermi a quello che fanno nell'anime non ecco 54.000 54.000 pugno da 23.000 ok so che se lo blocco devo mirare ad avere almeno sui 40.000 per bloccarlo ecco per 100.000 oddio contro ogni previsione potremmo riuscire a vincere sarà lungo tedioso quanto vuoi però dovremmo riuscire a vincere voglio vedere come cavolo me lo farmo io dieci volte sto qua non sto account perchè davvero è un parto ogni giro ma allora 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 attacca una volta sola e qua mi sa che però la special anche se me la becco in faccia lui ha attacco diminuto no attacco aumentato attacco diminuito difesa diminuita non so neanche lui cos'ha direi che se ne va via la seconda barra e prossimo turno entrambi bu no entrambi bu si cavoli entrambi bu lanciano la special qua è sempre il mio punto debole ovvero di non riuscire a prevedere bene dove scende cosa però se faccio così non dovrebbero scendere i verdi che mi assicurano la special di super si ok adesso con entrambi i kitbook e lanciano la special direi di buttargli giù la seconda barra a sto giro oddio oddio non ne sono totalmente sicuro di buttargli giù vorrei sapere quanto gli rimane up l'attacco però eh perchè se gli rimane troppo up inizia ad essere un problema gogetta non importa che evento fai continuo a essere il bg vittoria alquanto inquietante come cosa a scendere da che evento fai gogetta ti da la vittoria no un po' meno danni perchè non ha linkato con goku però sì siamo siamo all'ultima barra ho usato una gemma che però mi ridà quindi problemi zero andiamo adesso a vedere la storia com'è allora la storia è che a sto turno io uso Remma perchè per non sapere lui che cavolo mi fa penso sia abbastanza prevedibile che un elma impedisce in qualsiasi modo che io possa morire e fin qua ci sono qua penso che questi qui mi li terrò per gogetta perchè a prescindere i suoi dannini li fa quindi le elma questi cavolo di mutande inutili ma vabbè in hp vado bene bella domanda lui ha ancora danno aumentato però quindi se lui ha danno aumentato no 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 qua mi rifullo gli hp ho ancora un ghost hash spero di non dover utilizzare la seconda gemme solo perchè ho fatto una cazzata perchè potrebbe essere eh non lo nego potrei essere il consiglio di usare la seconda gemme unicamente perchè ho fatto la cavolata di di sbagliare e portare le mutande sono semplici vedete che vi fa bene il cotricianè ma sono state le mutande qua potrebbero essere le mutande intanto il coniglio maschio come ormai sapete ah no vabbè vediamo un po' eccoci eccoci è alti cinquanta tre volte sono comunque trecentomila di vitamini ma ogni barra quindi ne vediamo 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 ora com'è ora ora oltre al solito dannato pezzente che non è altro che non ha senso perchè ha lo stesso special di sereba perchè doveva renderlo più difficile non ha molto senso ma ok mi va bene lo accetto allora 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 abbiamo il trio di majinbu al prossimo giro ah è knockato ah kidbu fa il suo sporco lavoro continuo a dirlo sono piacevolmente sorpreso della potenza immane che ha kidbu perchè se lo riesce a knockare cambia parecchio il giochino eh vuol dire che volendo ti puoi fare un bellissimo team con leader che sarebbe leader gohan fisico se hai più di un gohan però felice di sapere che kidbu ha molte più potenzialità di quelle che gli davo molto probabilmente la vittoria di questa partita è data da questo knockin che ha appena fatto molto probabile ora se non voglio lanciare tripla special di bu se riesco prima level poi il super poi il kid oppure prima a prescindere level sarà il primo quindi dovrò mandare il super o il kid al tono successivo prenderei il super e non il kid devo essere sincero allora eh sì 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 dai che ci siamo se gogetta riesce a lanciare se riesco a fare abbastanza danni che gogetta lancia la sua bella special al prossimo turno è fatta il problema è che comunque è durissima come battaglia per suo account perchè questo è un goget al 10 dsa guardi goget al 10 dsa se io giocassi un attimino più assiduamente certi eventi anche il mio avrebbe 10 dsa però sorvoliamo allora diciamo come vanno dette le cose le mutande infine saranno servite a qualcosa a portarsene sono abbastanza felice di ciò alla fin fine hanno avuto un loro utilizzo penso che ogni special che lanci si aumenti l'attacco perchè non è ancora diminuito pesante se così pesante abbastanza andiamo un pochino non penso di sciottarlo se l'ho sciotto meglio se non l'ho sciotto ah beh però ipoteticamente salvo che ora lui non lanci due specie alla profusione perchè non ci siano delle cazzate all'inizio del prossimo turno fighissimo fa un po' più di danni sorpreso che il vb faceva anche di tanti danni non era preventivato vinto vinto e non è neanche il 40 stabile ha durato più tempo oh soltanto 35 minuti dad azione si questa è questo è il 40 stamina di Gohan fatto comunque con un team abbastanza scarso metà dei pg non serve ad usare il mister Gohan non serve a nulla in questo team il Goku Super Saiyan 3 non serve a nulla è messo la soltanto perché ho over in a flash quando servebbero altri se ce l'ho fatta io ce l'ha fatta anche voi quella gemma è stata utilizzata come al solito perchè ho preferito usarla ma non era obbligatore ti usavi il Ghost Asher non trobeccavi ti resettavi usavi Yan ma non te la usavi difficile non me la sento di dire che è il più difficile 40 stamina perchè comunque davvero un team doppio Gogeta che abbia Gotenks Super Saiyan lo mazzuola in pochissimo tempo dovendo fare altri video spero di riuscire a farmi le 10 medaglie adesso faccio una cosa giusto per divertirmi no? perchè voi sapete che quando io giro i video comunque ho facebook aperto molte volte quando non è una cosa in cui mi devo concentrare troppo perchè infine non era dove mi devo concentrare troppo per rispondere alle vostre domande un caro utente Arno Canto mi chiede di dire che lui sarà in top 1000 per portargli fortuna non lo dico Arno in bocca al lupo per la top 1000 del global in questo torneo dovrai sudare come non hai mai sudato in vita tua allora ragazzi un piccolo piccola cosa per me di salutarvi se i primi due giorni siete in top 500 top 1000 nel global ancora più nel Jap ma penso che per quelli del Jap non devo neanche dirlo ma nel global non cantate vittoria gli americani ci vuole un giorno perchè si muovano i giapponesi e i coreani che giocano al global gli ci vuole un giorno perchè si muovano un torneo da sei giorni non è una cosa facile poi o essere in top 1000 al primo giorno può comunque voler dire che in top 10.000 ci siete però dovete davvero perdervi l'anima io per un torneo di quattro giorni che al fine non sono in top 10.000 per cento posizioni mi sono davvero perso l'anima però l'ho fatto su due account allo stesso tempo quindi ci sta che non ce l'abbia fatto il prossimo se è un torneo da quattro o meno giorni se ho un solo account e pensi di entrare senza problemi in top 10.000 anche in top 5.000 potrei arrivare vabbè detto questo questa era la guida mi dispiace che sia uscita così lunga ma più corta non ce la facevo con questo team vi auguro una buona giornata presto con la guida per la LR più forte del gioco sopra una delle due LR di Yanko che signori siamo di fronte forse a qualcosa che può battere Gogeta di sicuro non è un pesce d'aprile può battere Gogeta tutto questo vi invito ad andare nel gruppo Giappa discutendo qua nei commenti e alla prossima